Nello Vestre di Monte San Savino è il vincitore della seconda edizione della Sagra della Porchetta all'interno delle feste del perdono di Terra Nuova, premiato il prodotto che più si confà dunque alla tradizione culinaria. Quest'anno è toccato a un porchettaio doc che risponde al nome di Vestre e quindi noi siamo estremamente contenti di averlo qui a Terra Nuova con noi perché lui è veramente un maestro porchettaio. Grande gioia per il realizzatore della porchetta stessa. Un'immensa soddisfazione aver vinto questo premio e poi aver avuto i complimenti di maestri esperti di Dario che è famosissimo in tutta Italia. Ho 62 anni, sono sempre venuto a Terra Nuova perché venivano i babbo, infatti mi è arrivata proprio oggi una fotografia del 1950 che aveva il banco in via Roma e penso siano più di 100 anni che non veniamo qua. Giurato d'eccezione, Dario Cecchini, il macellaio poeta di Panzano in Chianti. La ciccia buona fa bene alla pancia e all'anima, viva la ciccia, viva la festa di Terra Nuova e viva i paesi di Monte San Savino se ci fa le porchette o sì. Lunga vita!